Sono un artigiano della Valle dell'Irno e decubo, anzi, delle tegole, dei piatti e altre cose. Sono anche un ichebanista, cioè produco confezioni con fiori finti e fiori veri. I lavori che vedete nel filmato sono decorazioni che faccio su argilla, che mi viene fornita sempre da un artigiano della zona Grezzo. Io li tratto, li lavoro sia a modo di decubage che a pittura a mano. Grazie a tutti. Grazie a tutti.